Bene, continuiamo il nostro viaggio musicale nel mondo della cinematografia, anche se abbiamo fatto anche dei brani particolari, poi le faremo ancora altre verso la fine. Dicevo un momento fra l'assessore che le feste patronali qui a Trapani concluderanno domani, domani il 16 agosto, la festa della Madonna di Trapani, la nostra compatrona di questa città insieme a Sant'Alberto che abbiamo vissuto il 7 di agosto. Domani ci sarà per chi vuole, la mattina e non subito alle 9.30, chi abita nel centro storico sarà svegliato dal gruppo dei tamburi Trinacchia che gireranno per le vie degli itinerari della processione e quindi svegneranno un po' a tutti coloro che dormiranno qui al centro storico. E poi nel pomeriggio alle 19.30 la Santa Messa e dopo la Santa Messa ci sarà la processione della Madonna di Trapani, al terreno della quale a mezzanotte in punto ci saranno i giochi d'artificio al porto, al molo Caripaldi e alla marina qui vicino. Quindi domani si concluderanno queste giornate patronali e domani sera si spegneranno queste bellissime luminarie che ci hanno ottenuto compagnia dal 5 di agosto, anzi dal 6 di agosto fino a domani. Detto questo passiamo al posto del brano, il posto del brano è un brano un po' particolare, è anch'esso una famosissima colonna sonora, riguarda un discorso di viaggi immaginari anche lì, viaggio verso il futuro, quindi ritorno al futuro, insomma tutto ciò che riguarda questa situazione, è famosissimo anche qua la melodia di questa colonna sonora. E quindi adesso vi proporiamo proprio la colonna sonora del ritorno al futuro. Grazie 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 Grazie